Risse, minacce, aggressioni, cani aizzati contro da chi, senza fissa dimora, ha eletto a residenza a cielo aperto questa porzione di città a ridosso del borgo antico cittadino. Ad ogni ora del giorno, ed ogni santo giorno, e in Piazza Italia, monumento ai caduti, ad un passo da Porta San Biagio, residenti e commercianti sono esasperati e impauriti. La rabbia per una situazione che non cambia minimamente, nemmeno da quando è stato predisposto dall'amministrazione comunale, un servizio di vigilanza proprio davanti al cantiere del monumento, è tutta nelle parole del titolare di un pubblico esercizio, costretto a subire quotidianamente insulti, minacce, bottiglie di birra lanciate o lasciate davanti all'attività. Già da un mese che siamo qui, giornalmente c'è o un giorno il lancio di bottiglie, di tappi, di gente sempre che bivacca, è una zona in pieno centro, è una zona dove i turisti continuamente sono vicino a Porta San Biagio, ma sono costretti a evitare cani che si inseguono, persone che arrivano magari ad alzare un attimo il gomito, quindi a essere ubriachi, a tirare calci tra i vari cani, abbiamo chiesto ripetutamente interventi anche di polizia e carabinieri che naturalmente quello che ci chiedono, foto, filmati, ma foto filmati non è che uno in questi casi si ferma a fare un report di quello che succede, siamo usciti anzi proprio per vedere perché sembrava che si stessero sbranando tra cani, quindi in pieno centro, in pieno giorno, immagino cosa succeda la sera o la notte. A nulla valgono le continue chiamate alle forze dell'ordine perché la situazione, torna tale e quale non appena i vigili urbani, anche loro spesso aggrediti, come accaduto nei giorni scorsi davanti alla villa comunale, risalgono in auto e vanno via. C'è una macchina dei vigilantes presente ma come può vedere loro bivaccano intorno alla macchina, cioè non è la presenza di una macchina che può sicuramente turbarli. La cosa assurda è che comunque qui intorno è pieno di attività commerciali che investono e spendono e fanno sì che comunque magari fosse una situazione anche favorevole, visto che ora è un periodo turistico, ma anche di vivibilità normale, perché ci sono famiglie, bambini che passano nei passeggini o altro, comunque c'è paura anche nel passare sul marciapiede. Anche i residenti, soprattutto quelli che abitano nei palazzi, che si affacciano sul monumento ai caduti, urlano la propria rabbia e la propria amarezza. Non sappiamo più cosa fare, a chi rivolgerci, ci sentiamo abbandonati, dicono in coro e da microfoni spenti. Inoltre le associazioni animaliste, in prima linea per fronteggiare questa situazione, che è una vera e propria emergenza, sono pronte a chiedere l'intervento del prefetto, con una lettera che verrà inviata nelle prossime ore. Una dettagliata relazione relativa agli interventi effettuati per prestare soccorso ai cani utilizzati per l'accattonaggio e sedati con alcol, oltre che maltrattati, è stata inviata in prefettura dei responsabili del servizio veterinario dell'Asleccese.